Antonio Passerai Il ritorno sia a porta aperte Ho detto bravi, comunque hanno messo una partita buona di impegno, non si è visto gran gioco ma era una partita sentita, non si poteva pretendere di vedere gran gioco. Però ho visto, insomma, le due squadre sono impegnate e questo è importante. Un pensiero fino al cammino di oggi, come sta andando il Ponzacco Calcio? Ma il Ponzacco Calcio sta andando così e così. Io credo che dovrebbe poi trovare un assestamento migliore, però per ora va bene comunque nel complesso.